Viene tutti, viene tutti! Uuuuh! E' il bellissimo! C'è l'altro! C'è l'altro! Buonasera Ferrara, buonasera a tutti! Ciao ragazzi! Fantastico eh! Yeah! Allora stasera stasera metteremo un po' di musica sceglieremo un po' di musica per voi dai! Sarà un DJ set un po' un po' diverso perché io metto un po' di mischi e dietro di me è una parte della mia storia e dei miei amici suoneranno, cioè improvviseranno, non so cosa succederà, per cui voi fate quello che volete, divertitevi fate la vostra la vostra sonata, noi ci avventeremo con un po' di musica cercando di suonarla di trasformare le canzoni di fare un viaggio attraverso i ritmi attraverso i ritmi del mondo per me è un onore essere qui perché sono un amico, un fan di internazionale e di questo festival e quindi cercheremo proprio di di percorrere i ritmi del mondo i ritmi delle città del pianeta spero che passerebbe una bella serata penseremo di di godersene un po' buona serata, buon divertimento, grazie! ho i cd eh? finili i cd stasera quindi un po' di oscuro e un po' di tecnologia moderna grazie grazie sono benessati come stai? sono ripirata sei ripirata è io? vai cattordino ahhh 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 ma che amicazza? ahhh ma va sono tutte squaccate sono tutte squaccate ahhh 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 oh, questi cosa ne andiamo a fare? non li andiamo a fare non li andiamo a fare cosa ne andiamo a fare? non li andiamo a fare ci mettiamo la vediamo dopo ci però sognare con la bella Un momento perché devo imparare questo mixer. Presco mi insegni com'è il preascolto qui, che non conosco questo mixer. Un concerto, un concerto, un concerto, allora facci un concerto dai, mi sa che non conosce mixer e ci fa un concerto. Ehi beh, metti qui davanti. Ma che buttate l'isopпис verso. Tieni, ci giù qui. E' dietro! Mi fa diparare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.